Nonostante la tragedia, l'anziano morto in casa e il figlio ferito, a pochi metri dall'abitazione sventrata dall'esplosione, i ladri approfittando dello shock, si lanciavano all'assalto delle case situate tra le contrade di Viturano e Marotta, a pochi metri dove si era registrata dall'esplosione, un retroscena inquietante che provoca ancora più rabbia e dolore nel comune di Santa Paolina. A pochi giorni dal Natale, la comunità in lutto congela l'aria di festa e si dice sconvolta per la tragedia e presa di mira da malviventi che nelle ultime notti hanno seminato paura e tensione nella zona. Un periodo nero per Santa Paolina, che piange la scomparsa del novantenne Pinamonte Barbiero e prega per il 55enne figlio Antonio, rimasto gravemente ferito dall'esplosione. Presumibilmente è stata una fuga di gas a provocare la tragedia. La deflagrazione è avvenuta quando Pinamonte ha premuto l'interruttore per accendere la luce nella stanza, scatenando così un innesco micidiale, visto che la camera da letto era satura del gas fuoriuscito dalla stufa fosse difettosa. Gli accertamenti per definire la dinamica dell'accaduto sono stati eseguiti dai vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sul caso. L'episodio all'istato a lutto Santa Paolina è sconvolto Prato la Serra, comune d'origine della famiglia Barberio. L'anziano in passato aveva lavorato con i fuochi pirotecnici, una famiglia già assegnata da una trocce dolore quando nel 1992 un'esplosione costò la vita al 17enne nipote del novantenne. A pochi giorni dal Natale è una brutta notizia per Santa Paolina. Esattamente, oltre a quello a 200 metri più avanti hanno fatto una rapina, hanno rubato due case, i ladri si dice che sono rumeri, poi non lo so. Ma sta vivendo un momento di... Un po' a cosa di tutto. Una brutta notizia sì, anche se ho gente di campagna che conoscevamo, lavoratori, però siamo rimasti male dall'accaduto, ma sono brutte disgrazie, brutte cose. Lavoratori, con tanto rispetto diciamo, una buona famiglia, ecco. Sono emozionato, diciamo così, è quello che è successo. Siete addolorato per quello che... Addolorato, ecco, non mi vengono nemmeno parole, diciamo. In passato che facevano? Che lavoro facevano? Eh, lavoravano... A polveriera? A polveriera avevano queste cose qua, diciamo, no? Poi si è dedicata alla campagna, poi non so, perché poi sono anni e anni che non... Che sono venuti qua, diciamo, no? In questa zona, no? Lei conosceva... All'epoca stavo vicino a casa mia, diciamo, parlo 50 anni fa, diciamo, ci siamo conosciuti. Cioè, eravamo proprio strette famiglie, diciamo, no? E quindi... Dispiace tanto, comunque, dia tanto. Onde atti e anche due metri di fango che hanno costretto ancora una volta le barricate agli abitanti di via Piano d'Ardine, a ridosso del ponte delle Filande, dove il fiume, ingrossato dalla pioggia, è imbottito di tronchi e detriti, a straripato invadendo il tratto di strada che collega Altipalda ad Avellino. L'arteria, per consentire i lavori di rimozione del materiale di risulta, è stata chiusa al traffico sul posto dei tecnici comunali e vigili urbani. Un disastro da sempre annunciato, avverte Francesco Calabrese, che con il padre Ernesto sono titolari di un'officina spesso vittima della furia e dell'incuria del fiume. Questa volta è andata bene, perché il fango si è fermato all'ingresso dell'officina, però le altre volte ha subito vari danni. Di solito, diciamo così, quando qui ci sono queste piogge un po' straordinarie, si verificano quasi sempre, che il letto del fiume sale, inevitabilmente, con i tronchi che otturano il passaggio del fiume, non si crea una dica e poi viene giù maledettamente. I danni che abbiamo subito le altre volte ovviamente sono stati molti, tra motori dei macchinari eccetera eccetera, che uno ha dovuto poi aggiustare a proprie spese, perché qui nessuno ti dà niente. Per fortuna questa volta si è fermata così. Un disastro annunciato? Sì, ma è sempre, è sempre. Appena fa un po' di pioggia in più, qui inevitabilmente. Ho messo le porte, diciamo così, che mantengono l'acqua, però quando viene su, mi viene su così e mi entra sempre. Oltre i due metri? Sì, dall'altra parte, diciamo così, mi entra anche dalle scariche del bagno, ho dovuto levare il bagno dall'altra parte, perché l'acqua forzava e mi rompeva tutto. Da quanti anni lei subisce questo tipo di ondata nome? Da sempre, mio padre da sempre, da sempre. C'è paura anche per gli abitanti qua? Ma sì, una volta è venuta proprio un'onda, perché ha rotto, diciamo così, il paracarro, è venuto un'onda, ha buttato giù tutte le cancellate della CityCas, mi ha ammazzato tutti i polli, qui dei danni veramente incredibili. In attesa di un lavoro, fatemi fare almeno Babbo Natale. E' questo l'appello di Nelson, 47 anni disoccupato, residente a Forino, che chiede aiuto alle istituzioni per dire basta sul stato di indigenza, perché sono stanco e non è giusto, dice, per dignità vivere di espedienti. Nelson che porta il nome di un ammiraglio, perché il padre era in marina. Da ragazzo lavorava come barman, poi dopo la morte dei suoi genitori e di un fratello, la sua vita si è fermata in salita. Magari un giorno si augura Nelson tornerò dietro un bancone a preparare drink e caffè. In questi giorni che precedono la grande festa, sarebbe bello e utile vestirsi da Babbo Natale come testimonial di ditte o centri commerciali. I sogni e le fiabbe a volte non hanno età e tendono la mano ai bisognosi. Io purtroppo non ho famiglia, ho perso tutto. Ho perso mio fratello che era un fratello suicida, mamma e papà li ho persi dopo aver subito questo trauma e praticamente mi trovo disoccupato, senza lavoro, senza niente. Ed è brutto chiedere, è la cosa più triste che può essere. Di dov'è lei? Io sono originario di Salerno, però vivo qua, cioè gli amici miei di Salerno mi chiamano Avellinese perché vivo qua da 28 anni praticamente, vivo in provincia di Avellino. E non sono orgoglioso di questo fatto perché è una bellissima cittadina. Ricordo che papà quando mi portava al porto da bambino, quando ero piccolo, che papà mi portava al porto da bambino, diceva sempre, vicino a un capitano tedesco, cioè, imbarcato su una portacontainer francese, come vediamo a mio padre, sto capitano, diceva sempre, Gaetano Avelline, Avelline, che gli piaceva venire qua a mangiare a Serino oppure a mangiare il gelato sotto ai platani. Quindi hai emigrato da Salerno Avellino, lei però è senza lavoro, che Natale sarà? Per me, guardate, è triste, è brutto perché a me non piace chiedere, non piace chiedere niente a nessuno, cioè sei una persona abbastanza orgogliosa. Tu chiedi l'elemosina? Non chiedo l'elemosina, l'elemosina non la chiedo, però vado da qualche amico, chi mi può favorire 5 euro, chi 10 euro, chi questo, chi quello, però non riesco a trovare una scappatore, una moglie d'uscita per potermi praticamente realizzare. Ma che lavoro vorresti fare? Ma io mi è contento di fare il barman perché lo so fare, l'ho fatto per diversi anni. E come fai a sopravvivere? Mi trovo per strada, a volte vado da un amico, a volte vado, ieri per esempio la vigilessa del paese dove abito a Forino mi ha comprato le sigarette, poi mi dà un po' di spesa, mi dà qualcosa così, però vivere chiedendo non è una bella cosa, non è una bella cosa Signori gentilissimi delle istituzioni, dà una mano alle persone che non possono lavorare, persone che hanno volontà di lavorare ma che non trovano un benedetto santo posto di lavoro in nessun posto, questo è quello che mi sento di... Altro che babbi? Anche in Irpinia crescono i mammoni di Natale. Anche nella nostra provincia come segnalato da Eurostat, sette giovani su dieci tra 18 e 34 anni restano a casa con i genitori per colpa della crisi economica. Parola agli avellinesi, non mancano come sempre le sorprese, colpa del lavoro che non c'è ma a volte, rivela qualcuno, non c'è nemmeno la buona volontà, insomma mammoni forzati ma anche adagiati, dicono i cittadini. E' aumentato, si si si, il problema si è accenduato e si accenderà, purtroppo. E da cosa è dovuto essendo lei? Un po' dai giovani, un po' dai giovani, e perché? Perché io faccio un esempio, la settimana scorsa un mio carissimo amico mi ha chiesto una cortesia e due giorni lavorativi, un milanese che lavora qua da Avellino, 56 euro al giorno, non ha trovato nessuno che andava a lavorare, due ragazzi, 56 euro, una paga normale, regolarizzata, 56 euro non c'è andato nessuno. Più che un mamma era un babbo? Ci sono andato io comunque. Qua non si trova niente, insomma, da Roma scendendo giù, insomma, nel lavoro, giustamente non possono affrontare queste spese e hanno ragione pure loro, insomma, fin quando stanno i genitori, quelli si mantengono, la maggior parte di queste famiglie, proprio per i vecchi, diciamo, per i nonni che aiutano e collaborano, sennò questi stanno sempre soggetto, diciamo, a loro, pure di farsi, non so, un vestito, comprarsi qualcosa. Purtroppo sì, questo è un problema che qui, soprattutto al sud, avvertiamo parecchio, e quindi sì, c'è. Però non è il problema che i ragazzi non vogliono far niente, oppure, ma non c'è proprio la possibilità, soprattutto noi qui ad Avellino, i giovani non riescono a trovare... Penso che sia proprio una questione economica, vista i costi della vita oggi, vista che i stipendi non ci sono, vista che se ci sono, sono bassi, e quindi è dovuto a questo. Ragazzi che... Sto proprio fuori, vivo a Bologna io. Ah, qui sei andato via... Da un bel po'. Che lavoro fai? Sono operaio in un'azienda. Da quanti anni sei a Bologna? No, è un anno. Hai sentito a parlare anche in Irpinia, sempre più giovani sono costretti a stare a casa con i genitori. Sì, vabbè, purtroppo l'Italia di oggi è quello che è. Invece tu comunque devi essere andato via a lavoro subito. Sì, ma due da qua, o te ne vai, o resti a casa con i genitori. La verità è questa. Tu hai preferito smammare per lavoro? Sì, praticamente sì. Qual è un consiglio che dareste ai mammi, quelli che restano a casa? Datevi da fare o preparate la valigia e andate. Questo è un fatto più meridionale, diciamo, perché al nord, io esperienzo, tengo dei figli al nord e si trova il lavoro al nord, se uno lo vuole fare. Invece sono i cosiddetti mammoni che vogliono rimanere nel sud. Ancora furti in Irpini, a questa volta a finire nel mirino, pare siano soprattutto sacerdoti. Sono tre i casi. Il vicario della diocesi di Ariano, il prete di Atripalda, ed ora anche il parroco di Melito Irpino. Al vicario della diocesi di Ariano, Irpino Lacedonia, Monsignor Antonio Blundo, sono stati portati via 2.000 euro, in contanti, oro, effetti personali e diversi regali che aveva ricevuto in questi giorni. In casa di Don Rocco Mansueto, il parroco di Melito, sono stati portati via soldi e l'oro della dolorata, tanto caro e fedeli, per la profonda devozione alla Madonna. L'oro della Madonna era su un panno grezzo di enorme valore, non dal punto di vista economico, ma per l'antichità e per ciò che esso rappresenta. Dalla sagrestia della chiesa del Carmine di via Roma da Atripalda, sono stati rubati a Don Emanuele, intento a celebrare messa, il portafogli contenente 200 euro, alcune offerte ed il telefonino. Siamo di fronte ad una nuova escalation di furti. La particolarità in questo momento è che affinite nel Mirino e nei malviventi, ora sono soprattutto rappresentanti della chiesa. Ma resta alto l'allarme anche dei furti in casa. Appartamenti svaliggiati e vandalizzati da parte di delinquenti che sanno bene dove colpire e non agiscono per caso. A Montemiletto ci sono state una serie di furti a ripetizione nelle varie contrade. Nelle vesti di chirurgo effettuava controlli sanitari su pazienti ricoverati nell'ospedale di Napoli, presso cui prestava servizio. La dottoressa compilava cartelle cliniche, somministrava ansiolitici e antipsicotici e certificava anche i decessi. Dopo sette mesi di assistenza in camice bianco, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Avellino, con la collaborazione dell'Ordine dei Medici, ha scoperto che la donna, originaria di Caserta, ma all'epoca dei fatti, residente in provincia di Avellino, non aveva mai acquisito il titolo di chirurgo. La sua laurea è risultata poi falsa. Nell'ambito di un'operazione denominata terapia d'urto, le fiamme gialle hanno eseguito nei confronti dell'indagata un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP di Avellino Paolo Cassano su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino. L'inchiesta venne avviata nel giugno scorso attraverso un'attività di indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, sezione di Polizia Giudiziaria, presso la Procura di Avellino e sezione tutela economia a carico della donna indagata a vario titolo per esercizio abusivo della professione truffa ai danni dello Stato e plurime falsità ideologiche e materiali. In pochi mesi, a seguito dell'indagine dei capillari accertamenti economico-patrimoniali e bancari, gli investigatori hanno innanzitutto accertato come nel corso del 2017 la donna avesse tentato di iscriversi all'albo dei medici chirurghi e degli odontoi alti di Avellino producendo documentazione contrafatta allo scopo di ingannare la commissione dell'ordine professionale. Il tesserino di iscrizione venne però bloccato grazie alla segnalazione dell'ordine e al tempestivo sequestro operato dai finanzieri. L'inchiesta ha consentito, come detto, anche di accertare che tra novembre del 2016 e maggio del 2017 l'indagata era riuscita a scriversi a un'associazione medica privata di Napoli e a svolgere la professione presso una casa di cura producendo una laurea in medicina e chirurgia e un'abilitazione professionale. Risultate poi farsi. In questo caso l'analisi delle centinaia di cartelle cliniche predisposte e sottoscritte da falso chirurgo comparata con l'esito delle indagini economico-patrimoniali ha permesso di rilevare l'effettiva presenza ai relativi prospetti dei compensi che la casa di cura regolarmente corrispondeva mediante bonifico sul conto corrente personale dell'indagata. Le difficoltà economiche nel basket non dipendono dall'ingresso nel calcio De Cesare in un passaggio della lunga intervista alla Gazzetta dello Sport prova a chiarire anche questo aspetto non c'è uno sfilacciamento della società dice, non c'è assolutamente degrado totale sono situazioni legate a questo particolare periodo natalizio che è negativo per un'azienda energetica come la nostra ma ora devo dare un segnale di forza fin qui le dichiarazioni ma sono tanti i punti interrogativi che ora di riflesso si ripercuotono per il calcio perché andare ad investire in un altro sport quando ammetti che anche in passato nel basket ci sono stati problemi perché ad agosto ci si è affannati a dimostrare un'ampia liquidità attraverso la presentazione dei famosi assegni circolari divenuti poi strategicamente decisivi per la scelta dell'allora sindaco di Avellino se l'azienda principale vive congiunture negative che mettono in seria difficoltà erano appena 4 mesi fa che si parlava di progetti altisonanti di una polisportiva stile europeo di un qualcosa che ha fatto brillare gli occhi a migliaia di tifosi amareggiati e scossi dopo il mortificante schiaffo subito in estate per l'esclusione dalla Serie B vogliamo ricordare all'ingegnere che proprio il ritardo di ore è stata la causa scatenante che ha portato l'Avellino Calcio fuori dai professionisti si è scivolati su una buccia di banana per ritardi ed errori ad obblighi che per le federazioni sportive sono indispensabili c'è una spiccata preoccupazione perché ovviamente il passato serve anche ad insegnare al presente come comportarsi per il futuro ora in Serie D gli investimenti non sono poi così onerosi e purtroppo si vede visto che tra l'altro l'attuale classifica dei lupi parla chiaro ma già se sei Lega Pro le migliaia di euro debbono necessariamente trasformarsi in milioni di euro da essere investiti e delle congiunture economiche in determinati periodi dell'anno poco importa specie nel momento in cui ci si è affannati a sbandierare a segna Iosa per acquisire il titolo sportivo di una squadra che l'azienda di De Cesare ha sempre visto come fonte per elargire sponsorizzazioni ed è per questo che i tifosi sono preoccupati e chiedono garanzie anche nel calcio perché se il buongiorno si vede dal mattino forse anche il calcio Avellino se non nell'immediato ma nel futuro potrebbe subire conseguenze dalle congiunture economiche negative fate presto e l'urlo che si leva da Parolise e San Potito sono le comunità che più soffrono per la sospensione dei lavori di messa in sicurezza del ponte ma è l'intera provincia pronta alle barricate l'Irpinia che ieri è scesa in piazza Raide è pronta a scendere in campo con clamorose proteste perché la viabilità alternativa è pericolosa le ambulanze con ghiaccio e neve rischiano di non passare le produzioni soffrono, i tir arrivano nei paesi tutto perché il progetto è monco di calcoli che non arrivano dall'ANAS che intanto tace delocalizzare il ponte, cambiare percorso emergono ipotesi di soluzioni servono intanto controlli un commissario che sblocchi l'impasse un comitato di sindaci pronto a marciare su Roma queste le voci intanto di chi vive il dramma adesso basta siamo stanchi, noi vogliamo sapere quando iniziano e quando finiscono i lavori adesso basta si può togliere solo le campate su piloni e rimanere i piloni che hanno 50 anni mettere delle campate nuove su piloni vecchi io vorrei sapere ma sta gente viene pagata da qualcuno per fare queste cose assurde o si svegliano la mattina vanno là, togliamo il ponte, lo disarmiamo o lasciamo la gente qua la gente di Parolisse deve sapere di che morte deve morire siamo stanchi, vogliamo una soluzione la vogliamo immediata perché veramente noi, io che ho un'attività stiamo veramente al collasso e quindi siamo tutti quanti pronti con tutti i cittadini a bloccare il traffico a metterci per strada a fare qualsiasi cosa per farci sentire e per farci rispettare perché veramente siamo stanchi e mi vergogno in un certo senso di essere italiano perché sono calpestato e non sono rispettato e sono un onesto cittadino che paga le tasse nessuno riusciva a venire al negozio e quindi le ho contate passano dalle 20 alle 50 macchine al minuto e quindi tutto questo traffico non va bene poi non ci sono controlli la segnaletica è carente o mancante non è possibile che io devo chiudere e dove vado? vado a mangiare dai signori dell'ANAS? sotto al ponte mi metto col tavolo? quindi dobbiamo fare qualcosa facciamo una protesta dobbiamo trovare una soluzione perché così non si può andare avanti è inutile che l'ANAS viene da noi e ci prende in giro ci è venuto a prendere in giro no, questo è un lavoro che si risolve il 22 febbraio i lavori finiranno ma quale 22 febbraio? di quale anno vogliamo sapere? di quale anno? noi siamo stanchi non ci stanno controlli un vigile qua non serve ci vuole un aiuto ieri mattina io ho rischiato con un tiro ieri mattina ci dica, ci dica se adesso scappò un morto che scappasse sono danni con la coscienza che è consapevole è un'emergenza quella delle strade è un'emergenza questa credo che sia una partita da giocare su tavoli che vadano oltre quello provinciale regionale e nazionale non voglio fare politica non voglio essere polemico ma sicuramente le emergenze vere sono queste è inutile girarci intorno l'Alterpinia si sta spopolando e perché dovremmo restare? quando per raggiungere Avellino impieghiamo di nuovo più di un'ora? non vediamo nemmeno la luce io avevo chiesto lunedì sabato scorso e i sindaci i colleghi mi hanno dato anche supporto un comitato dei sindaci e soprattutto un commissario avevamo un ponte adesso non ce l'abbiamo più e non ci è dato sapere neppure quando ci verrà restituito noi sindaci riceviamo quotidianamente cittadini che chiedono ci pongono domande e ci sottopongono le loro sacrosante istanze e noi non sappiamo rispondere non abbiamo responsabilità in merito e ci troviamo a combattere la nostra quotidianità senza avere gli strumenti per poterlo fare e quindi io credo che sia giusto avendo sul tavolo questo genere di elementi di indignarci di arrabbiarci io credo che se non arriviamo a intraprendere una strada di protesta legittima e sacrosanta l'ANAS probabilmente queste carte non le porterà mai oggi a due mesi dalla realizzazione poterica del ponte siamo a zero e soprattutto siamo all'oscuro questa gente che io vedevo molto arrabbiata ha ragione perché ad oggi dopo mancavano due mesi per la consegna dei lavori non solo ormai siamo non sono quasi si può dire non sono partiti ma noi anche noi sindaci come loro non sappiamo né quando partiranno né quando mai termineranno se i comuni vengono in provincia per creare uno stato di agitazione io come presidente della provincia ovviamente dovrò ascoltare i sindaci e potremmo anche diciamo per protesta trovare una soluzione abbastanza diciamo forte per farci sentire sul serio e bloccare le provinciali e creare veramente poi di servizi tali da poter far venire l'ANAS giù e discutere sul serio sulla prospettiva che loro hanno in tempi molto molto rapidi e soltanto così fosse probabilmente potremmo capire le reali intenzioni di ANAS io penso che sia necessario sindaco chiudere con un vero e proprio appello anzi se vogliamo con un SOS sì l'appello è fate presto il corpo privo di vita di un lupo è stato rinvenuto in questa zona di Monteveggine ci troviamo a pochi metri da Campo Maggiore dove c'è il laghetto purtroppo si sospetta che questo esemplare sia stato avvelenato perché è in atto sul Monte Partenio una sorta di faida tra cercatori di tartuppi secondo alcune testimonianze raccolte nella zona il cadavere del lupo visibile tra i tornanti del Partenio dopo il santuario di Monteveggine a pochi metri dall'ex basso in alto e poco prima del laghetto giace per strada da ieri chi conosce ama la montagna non ha dubbi a ucciderlo sono state le esche avvelenate disseminate tra boschi e sentieri dai cercatori di tartufi per colpire i cani dei rivali non sarebbe il primo caso di un lupo vittima della guerra di tartufai scatenatasi anche sulle montagne erpine a colpi di polpette avvelenate il ritrovamento del cadavere del lupo è un colpo al cuore per la comunità del Monte Partenio e per i monaci benedettini nei pressi del santuario svetta la statua di San Guglielmo fondatore del monastero con ai suoi piedi un lupo lupo che si racconta sbranoi somaro dell'eremita il santo domestico l'animale fino a renderlo docile e utile per la Soma dal miracolo del lupo alla strage dei lupi per colpa della mano dell'uomo c'ho un sospetto e mi auguro che non sia così ci sta la montagna è terra di conquista per questi tartufi e molte volte ci sono dei bocconi avvelenati qualche disonesto che è fonte di guadagno per lui e pensa di risolvere bocconi avvelenati per i cani per i cercatori di tartufi tant'è vero che molti hanno preso il vizio di mettere la muserura al cane sapendo che ci sono questi bocconi mi auguro che non sia morto così San Guglielmo col lupo i lupi di Avellino i lupi del Partenio è il nostro simbolo è un peccato non proteggerli l'appello all'autorità adesso a intervenire a proteggere i lupi i cani tutti gli animali l'appello è che se sono stati qualche disonesto deve fare la stessa fine il secondo lupo che trovo morto sulla strada mi sembra un po' preoccupante in quanto non sono animali che muoiono così la per là la seconda volta sempre in questa zona no al terminio nel terminio tre o quattro giorni fa si è verificato lo stesso caso mi sembra che sia stato veleno perché è un po' gonfio in genere lo vedo bene come lupo ci sono tanti cercatori di tartufi si è abbastanza quindi può essere che si è scatenato questa sorta sicuramente così si è scatenata questa guerra sotto Natale del veleno per i cani da tartufi per i cani per i cani si poi purtroppo ci ripetono le penne poi questi poveri lupi e qualche altro animale volpi molte volte si trovano le volpi con esche avvelenate anche voi avete subito questa l'anno scorso si qualche amico c'è morto qualche cane come no la possibile guerra tra tartufai sarebbe costata la vita al lupo di Montevergine ma diciamo che questa è una delle ipotesi più valide in effetti da qualche anno si verificano avvelenamenti sia sul monte Partenio che sul monte Terminio da parte di tartufai in effetti da quando le persone hanno capito che il tartufo può portare un introito economico non usano mezzi leali e legali per poter fare la concorrenza tra di loro persone che agiscono se così dovesse essere senza farsi alcuno scrupolo andrebbero punite innanzitutto solo per questo ma se così dovesse essere come si può combattere quella che poi potrebbe essere addirittura una piaga perché tu prima ci dicevi a microfoni spenti che negli anni passati avete assistito anche alla morte di numerose volpi ma sicuramente io diciamo che vado a tartufi con mio padre da 30 anni però non è mai successo niente c'erano degli scherzi tra tartufai ma con una stretta di mano si chiudeva tutto adesso purtroppo da 5-6 anni si verifiano tutti questi avvelenamenti 4-5 anni fa come ripeto abbiamo trovato almeno 40 volpi morte soprattutto dovute ad esche avvelenate ma la cosa fondamentale che premo a dire che io essendo presidente dell'associazione di tartufai dei colli erpini i miei associati i miei amici i miei colleghi sicuramente non hanno fatto questo perché noi sicuramente vogliamo bene soprattutto agli animali che portiamo con noi e poi soprattutto alla natura infatti i tartufai innanzitutto devono voler bene alla natura ma purtroppo i fatti ci dimostrano che questa non è una regola che vale per tutti a chi ti senti di rivolgere un appello in questo senso ma sicuramente l'appello va rivolto agli organi preposti forestale guardia ambientale guardia zoofile soprattutto per un maggiore presenza sul territorio ripeto da 30 anni non abbiamo mai ricevuto nessun controllo c'è gente che va con 7-8 cani dove la legge non lo prevede e va soltanto per uno scopo economico quindi maggiori controlli e non tanta la repressione ma io dico educazione trovare le persone e fargli capire che cosa è la ricerca del tartufo che cosa è un cane che cosa è un animale e poi eventualmente verrebbe anche un compenso economico si tratta di un lupo giovane e forte probabilmente ucciso con il veleno il risultato del primo esame esterno effettuato stamane dal dottore Ugo Mariani responsabile della sezione di Avellino dell'istituto zoo profilattico sul cadavere dell'animale conferma i sospetti che hanno spinto i carabinieri del comando stazione forestale su monte ad avviare un'indagine sul caso del lupo ritrovato morto dai tornanti del partenio a pochi chilometri dal santuario di Montevergine in prossimità del laghetto di Campo Maggiore il cadavere dell'animale sarà inviato nelle prossime ore all'istituto zoo profilattico di Portici dove sarà eseguita l'autopsia per definire con certezza le cause che hanno provocato il decesso del lupo Nell'esame esterno sicuramente abbiamo potuto confermare che la carcassa possa essere quella di un lupo e in più l'ASL ha portato insieme alla forestale quest'animale accompagnandolo al modello tipico che si usa in caso di sospetto di avvenenamento quindi noi per l'ufficio e per l'ordinanza ministeriale dovremmo agire entro 48 ore facendo l'autopsia dell'animale come succede in tutti i casi di sospetto di avvenenamento per poi decidere se confermare il sospetto di avvenenamento e quindi poi avvertire la procura l'ASL e il sindaco dove è stata rinverita la carcassa e quindi procedere poi con gli esami tossicologici per contro se si riscontrano delle delle alterazioni tipiche che sono riferibili poi a malattia allora in quel caso non si dà la conferma dell'avvenenamento ma si dice che l'animale è morto per un altro motivo però dall'altro della sua esperienza da un primo esame esterno e cosa diciamo è difficile fare una diagnosi in questi casi però è un animale giovane un animale ben nutrito non ha segni esterni quindi di colluttazione con altri animali o diciamo non è stato attinto da arma da fuoco come è capitato nel passato di avere visto animali selvatici che erano stati in questo caso attenti ad arma da fuoco è presumibile che questo animale possa essere stato avvenenato anche perché mi hanno detto è stato ritrovato in una zona di Montevergine dove spesso sono attivi tartufari e c'è una grossa invidia tra le varie squadre di tartufari quindi spesso loro girano cioè disseminano queste esche insomma per eliminare i cani degli avversari questa è una cosa barbara insomma la dico un po' così alla buona però è quello che accade sono ore di ansia attesa e preoccupazione in Irpinia per capire quali saranno le mosse del patron de Cesare in merito alle difficoltà economiche in casa a Scandone Avellino entro oggi vanno saldati i 230.000 euro più 10.000 di ammenda per i ritardi per ottemperare agli oneri previdenziali pena la commissione di punti di penalizzazione solo ed esclusivamente il patron sa se nelle prossime ore sarà in grado di rispettare l'impegno ma di certo il solo fatto di essere arrivati in extremis quasi alla scadenza del gong non è un bel segnale a tutto ciò poi si aggiungono anche altri dati che non fanno presagire nulla di buono Norris Cole l'acquisto più importante e doneroso di quest'anno sta facendo le valigie ed è in partenza per Podgorica dopo l'accordo con il Budconost il play americano stamane si è solo visto di passaggio al pala del Mauro ma non è sceso sul parquet per allenarsi con i compagni nei prossimi giorni potrebbe fare lo stesso anche Caleb Green mentre l'ultimo acquisto Patrick Young non sarà di certo schierato domenica contro Sassari dopo l'indagine della procura federale circa il suo tesseramento un quadro questo di smobilitazione con lo stesso coach Vucinic stamane che ha dipinto un senso quasi di smarrimento è difficile lavorare in questo clima detto e per domenica non so se tutti i giocatori saranno della gara non si nasconde quindi Vucinic che in inglese lancia anche un altro messaggio nessuno vuole che il club sparisca ad Avellino è importante avere una squadra che milita in uno dei migliori campionati del mondo peccato però che in pochi se ne stiano accorgendo aggiungiamo noi l'SOS nascosto clamorosamente dalla proprietà che in questi anni ha voluto fare tutto da sola senza l'appoggio esterno di nessuno è stato inizialmente trascurato solo in un secondo momento De Cesare ha messo le difficoltà economiche ma ancora una volta si è isolato nella sua Napoli qui in Erpenia invece nessuno interviene come è accaduto solo pochi mesi fa anche con il calcio in pochi probabilmente lo hanno capito ma la scandona sta scomparendo nell'indifferenza di molti e di conseguenza tutta l'Avellino sportiva rischia il default completo Il buongiorno con rapina stamane al bar non l'Ure di Avellino intorno alle 6 un malvivente con il volto travisato e completamente vestito di nero è entrato nel locale di via Mattiotti e armato di un taglierino ha intimato il dipendente dietro la cassa di consegnagli l'incasso il rapinatore dopo aver intascato il bottino una somma di circa 300 euro a passo svelto ha guadagnato l'uscita dileguandosi per le strade del centro sulle sue tracce ci sono gli agenti delle squadre volanti che allertate dal dipendente dal titolare del bar sono giunti sul posto per raccogliere indizi utili alle indagini gli uomini diretti dal vicequestore Iannuzzi hanno ascoltato la vittima del colpo facendosi ricostruire la dinamica della rapina impossibile invece tracciare un identikit del malvivente considerando che è entrato in azione con il volto mascherato gli agenti hanno acquisito anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza nel tentativo di recuperare elementi utili all'identificazione del rapinatore in due settimane in via Mattiotti due rapine un campanello d'allarme per una zona comunque centrale ricca di negozi e molto affollata il 6 dicembre scorso infatti era stata l'edicolante a pochi metri da L'Honge Bar a subire un colpo in quel caso il malvivente venne catturato dalla polizia con la decisiva collaborazione della titolare dell'edicola Roberta Nazzaro vestita da Babbo Natale ha una missione speciale quella di far sorridere e portare in regalina ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale Moscati in questo caso ti vediamo anche con la gonna rossa una Babbo Natale speciale insomma tu hai incontrato i piccoli i bambini allora il mio progetto innanzitutto si chiama bullismo e beneficenza all'interno degli ospedali oppure all'interno delle scuole in quanto ho notato vari atteggiamenti che si verificano sia a livello istituzionale quindi attraverso le scuole sia a livello per quanto riguarda la beneficenza io chiedo molto sommariamente di fare meno regali e più opere di bene e di ricordarci soprattutto soprattutto ci tengo particolarmente che il bene non si fa solo a Natale ma si fa sempre ogni giorno in ogni momento in ogni ora quindi vi chiedo gentilmente di donare anche un solo euro semplicemente un caffè un caffè costo 80 centesimi non costa nulla prendere un'iniziativa e fare in modo che all'interno di questi ospedali i bambini hanno un qualcosa di particolare vi posso dire per esempio che io ho preso il mio Hello Kitty gigante che ho da quando ero piccola e l'ho donato appunto a Marica che è una bambina e ho chiesto ai genitori quindi posso dirlo è Marica la bambina che oggi ha il mio Hello Kitty grandissimo e sulla pagina Instagram potete notare il momento in cui lei ha ricevuto il pupazzo inviti tutti gli Irpini e comunque insomma a tendere la mano ai bambini del Moscato grazie ti ringrazio ciao Roberto auguri